Dobri den, si ok? Con questo video andiamo avanti con lo studio della lingua russa. Mettiti comodo o comoda e iniziamo questo bellissimo viaggio. Questo è il corso lingua russa in pratica. Mi chiamo Anna, siamo al livello A1. Se hai seguito tutti i video del corso fino adesso vuol dire che hai già studiato il russo per molte ore, divertendoti e scoprendo tante cose nuove. Se hai aperto questo video per puro caso e vorresti iniziare da capo, clicca sul link che vedi in alto. Bene, questa lezione è dedicata alla conversazione. Se delle volte senti come se tornassi indietro con le tue conoscenze e molte cose cominciano a sembrarti difficili, significa che hai accelerato troppo. Lo studio è facile solo quando vai pari con il tuo passo personale. Torna indietro spesso, rivedi alcune lezioni, non avere mai fretta. Solo così rendi il tuo studio della lingua russa semplice e divertente. Una piccola precisazione riguardo dei dettagli che vedrai. Ho avuto notizie sul fatto che questo corso di russo si sta usando da alcune scuole di lingue come un corso proprio loro, cioè loro lo usano come un corso a pagamento, ritagliando il mio nome e vendendolo come se fosse stato fatto da queste scuole. Siccome questo è un canale YouTube di libero utilizzo, vorrei difenderlo dall'uso a pagamento, tra l'altro non concordato con l'autore. Per questo vedrai durante il video delle scritte come iscriviti al canale o seguimi su Facebook, insomma tutte quelle scritte che fanno capire che la fonte c'è, che chiunque può trovare queste lezioni online e seguirle gratuitamente. Se avessi voluto renderle a pagamento, l'avrei già fatto tempo fa, ma tutte le lezioni restano pubbliche. Certo che dovrei farlo anche nelle lezioni precedenti, infatti ora penserò come poter aggiungere questi dettagli ai video del livello base, ma intanto ti ho avvisato che d'ora in poi troverai più inserti con il nome del canale, proprio per questo motivo. Detto questo, torniamo al nostro programma. Con questo video ripassiamo alcune parole, anzi molte direi. Повторяй за мной. Паспорт, отпуск, остров, друг, тоже, номер, отель, здорово, потеряли, нашли, город, учитель, место, красивый, голос, площадь, стул, самый, летать. Quali sono le parole che al plurale acquisiscono la lettera A? Passaporto, isola, numero, che è anche una camera in hotel, insegnante, posto, voce. Passaporto, diciamole, diciamole al plurale. Come dici passaporti? Teniamo sempre presente l'accento tonico che con il plurale in A si sposta sempre sulla fine della parola. Passaporto, passaporto, passaporto. Come si dice in russo? Isole. A stravare. Come diresti? Numeri. Sono anche delle camere in hotel. Insegnanti. Questa parola al singolare finisce con il segno dolce, per questo avrà la IA al plurale. Per questo avrà la IA al plurale. Ucite là. Ucite là. Ucite là. Posti. Mestà. Voci. Glassa. Perfetto. Due parole di questo elenco hanno il plurale irregolare. Come si dice amico? Druk. E come dici amici? Drusia. Tra qualche istante ci servirà per capire il dialogo che sentiremo e poi raccontarlo. L'altra parola con il plurale anomalo è sedia. Come si dice al singolare? Stul. Come diresti sedia. Stulia. Sentirai molte parole declinate al prepositivo. Come dici vacanza. Votpusk. Come diresti in vacanza. Votpuskia. Bene. Come si dice in hotel. Vottene. 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 Come dici in città. Vottene. 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 In città. Vott? In città. Vottene. Vottene. Se il sostantivo finisce con il segno dolce ed è femminile, al prepositivo acquisisce la I finale al posto della I. E infine vedi due aggettivi Come traduci dall'italiano bello? Significa bello esteticamente, bello da vedere e delle volte anche bello da sentire come una bella voce o la musica bella. Al contrario della parola хорошi insiste sul lato estetico di quello che noi caratterizziamo come bello. Come diresti allora bella esteticamente? Красивая. Come diresti belli o belle? Красивая. L'altro aggettivo è Samy. Il più. Samy. È la parola che ci aiuta a formare il grado superlativo. Come dici il più grande? Samy. E come dici il più bello nel senso estetico? Samy. Al femminile, come lo diresti? La musica più bella. Samy. Красивая. Musica. È tutto al femminile. Bene, e l'ultima parola che analizziamo prima di ascoltare è il verbo volare. Come lo dice in russo? ЛЕТАТЬ ЛЕТАТЬ Significa anche viaggiare o andare con l'aereo. Come dici siamo andati, inteso con l'aereo. Me letali. Me letali. Bene, e come capisci? V'aprile я letau в Москву. Ad aprile sono andato a Mosca. Prova a dirla tu questa frase. V'aprile я letau в Москву. Perfetto. Сейчас tu слушаешь dialog. Prova a capire il più possibile. Per facilitare la comprensione puoi chiudere gli occhi. Perfetto. Parfetto. я был в отпуске и летал на острова. Твой друг Миша тоже был там? Да, мои друзья Миша и Олег тоже там были. У нас были номера в отеле, и мы много отдыхали. Здорово, там хорошие пляжи. Да, очень. Один раз мы потеряли паспорта, но потом нашли их. А где ты была в августе? Мы были в городе. Мы это мой брат Саша и я. Мои братья-учителя, поэтому они не работали в августе. Но они нашли места в отеле на море и были там две недели. Так как мой брат Саша любит красивые голоса, мы слушали оперу на фестивале. Правда? Где был фестиваль? На площади. Там стояли стулья и люди слушали музыку. Все площади красивые, но это площадь была самая красивая. Hai capito almeno metà della conversazione? Se sì, dovresti ripassare questo video ancora due o tre volte, se è stata solo metà. Hai capito attorno all'ottanta per cento? Molto bene, sei al livello giusto per andare avanti. Ascoltiamo questo dialogo con il sostegno vizuale e più velocemente. Pronti? Gatovi? La velocità normale della lingua russa parlata sarebbe così. Allegniamo l'orecchio. Allegniamo l'orecchio. Allegniamo l'orecchio. E adesso prova a dire tu questa conversazione. Ora traduciamo il dialogo in russo. Alcune parti di questa conversazione potrebbero essere più facili per te, altre più difficili. Devi rimanere sereno o serena riguardo questa cosa. È normalissima e lascia stare quelle lacune che potresti avere anche se capitano spesso. Vuol dire che dovrai ripassare alcuni argomenti e poi tornare a questa conversazione di nuovo. Non c'è niente di strano. L'ho fatto io tante volte quando ho studiato l'italiano. L'hanno fatto centinaia e migliaia di persone che oggi parlano le lingue straniere alla perfezione. Tornare, ripassare, poi affrontare la nuova lezione ancora una volta. Bene, ricordati che la parola anche non va mai all'inizio della frase. Via! Где ты был в августе? В августе Я был в августе И летал На острова Твой друг Миша Тоже был там? Да, мои друзья Миша Миша И Олег Тоже там были У нас были Номера Номера В отеле И мы много Отдыхали Здорово Здорово Да, очень Один раз Один раз Мы потеряли Паспорта Паспорта Но потом Нашли их А где А где Ты Была В августе Мы Были в городе Мы 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 Это Мой брат Саша И я Мы Мы Это Мой брат Учителя Мои Братья Учителя Поэтому Они Не работали В августе Но Они Нашли Места В отеле В отеле На море И Были Там Две Недели В отеле В отеле Места В отеле В отеле В отеле ... Так как мой брат Саша любит красивые голоса, мы слушали оперу на фестивале, правда? Где был фестиваль на площади? Там стояли стулья. И люди слушали музыку. Все площади красивые. Но эта площадь была самая красивая. Очень хорошо. Дальше за время, ты сможешь идти в отличие. Пишите лайки, пишите комментарии, пишите комментарии, пишите комментарии, как ты чувствуешь с этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода.